Allora, vado eh? Ogni giorno in Africa... Oh, fate l'Africa? Fate l'Africa? Vai Arturo, com'è l'Africa? No, quella sorella di Mariano, l'Africa... Oh, e lascialo fa... E quella sorella di Mariano sbagliata? Spettila, lascialo fa, lo sta facendo bene, perché l'Africa è maestosa, che è così, è grande, è vasta... Com'è l'Africa? Roberto, com'è l'Africa? Oh, ecco, sempre il tuo sorello presente pure Roberto... Io l'avrei fatta più, capito, questa è l'Africa... Questa è più maestosa, più immensa, no? E vicino all'Africa che c'è? E chi c'è? No, è il Madagascar, che è l'isola. Ogni giorno in Africa... Arturo, com'è l'Africa? Ecco, guarda com'è l'Africa, guarda, ecco. I tre dell'Africa, questo. E' uguale, c'è, c'è proprio questa... E' identico. Ogni giorno in Africa un leone... Oh, adesso Arturo, il leone come fa? Non copia Arturo, guarda avanti, come fa il leone? Scusate un attimo, sentite il verso dell'Ori. E' bello, è bello, è bello. Questo è il leone sardo, è il leone sardo. No, però lo sai che... Non è mai la sveglia. Perché le va? I felini fanno... Così che corri su. Allora... Quando sanno per morire, fanno... Oh, è vero, c'hanno sto... Quello è un leone che tu gli vada a fan cazzo. Allora, ogni giorno in Africa un leone si sveglia. C'è un leone, l'arga, no? Che? Ah, vedi, vedi... Venga aú e si sveglia il leone. Come fa il leone, Robertino? Come fa il leone? Aú. Aú, vedi? Di scepolo. Aú. Tutti aú. Ma parla in anche un altro modo. Ma allora Lanzo non ci porta il bambino. Ah, non ci porta, no, no. Allora, stavolta cominciamo prima da loro, così si può essere... Un leone si sveglia, vedi il leone come si sveglia? Vai, Matteo. Aú, Matteo, Matteo, sei magnato il leone, quindi, eh. Gli è rimasta traccia del leone dentro, proprio. Il leone si sveglia e corre. Come corre il leone, Roberto? Come corre il leone? Corre, 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 corre. Quello come corre il leone? Come scia. Con skateboard, come corre il leone? Come corre? Quello, dai, a buonanima, doveva col jack se mi diceva... Come corre il leone? Fai, fai un po' a... Come corre il leone? Eh, ma così lo intimorisci. Io tutti gli ho detto, come corre il leone? Ebbè, ma lo sta facendo. Matteo, come corre il leone? Quello dentro l'acqua. Nuovo, nuovo. Fuori all'acqua, come corre? Ma Lanzo ci porta questi ragazzini? No, va. Cioè, se vedono un documentario, voi gli cambiate canale e fare neate Filippi. Non ho capito, perché... Guarda, io sono sicuro che Arturo ci dà una bella dimostrazione. Guarda, Arturo, dai, subisci con gli occhi, con gli effetti speciali. Come corre il leone? Camo, questo con scuderone. Ma andate, che è un monopattino. Va bene. Al garage andiamo, invece dell'Africa in garage. No, ma se gli piace fa così, fa così. Vabbè, dai. Sono i... Leoni... Bravo, poi sono i nostri ospiti, fanno come va. Vabbè, allora. Ma uno che gli chiede come corre il leone, mi fa così. O a scureggiare il leone, o se sta per l'equilibrio. Ma no, sono cose, sono animali da giunga, che ne sai dire? Eh, beh. Ogni giorno il leone si sveglia e corre perché sa... Sa? Voi te va a vedere che il leone sa. Sapiente, il leone sapiente. Sa? Che deve... Ma fa la testa. Come fa? Date l'impressione che il leone sa. Che sa? Come fa il leone quando sa? Che pensa? Che fa? Oh, ehi, ma svegliate. Robè, come fa? Che fa? Vengo io, faccio tutto io e non andate via, eh? Come fa? Fa così il leone. Ah, vai. Fai. Oh, eccolo per te, vai, vai. Il leone sa che dovrà correre più della gazzella, altrimenti morirà di fame. Oh, eh. Io qua un leone che muore di fame, voglio vedere. Vabbè, però Arturo è specializzato, visto che ho fatto il leone che già aveva perso sensibilità alla gamba destra, proprio il bambino che fa qualcosa che alla sinistra, vai. Vai. Come muore il leone, Arturo? Se non mangia il leone, muore. Come muore? Sì. Boom. Boom? Boom. Boom. Allora, il leone fa au e quando muore fa boom. E se muore di trombosi? E se muore di trombosi? Ecco. Accendi i fuochi, tra poi accendi i fuochi e se cocemo il leone pure parmi già. Ma Matteo lo sa però, vai. Matteo, guardi Matteo. Quello che è, il leone che è a scuola, dai, quello che è. Leone? Cagriniere, che è che è il leone? Il leone grifone, il leone grifone. Cioè il leone quando muore sta così, sta? Sì. Ma muore perché si è sentita la scella. Come muore il leone, guarda Robertina Michele. Come muore il leone, Roberto? Come muore il leone, Roberto? Oh, edì, ecco. Oh, bravo. Allora, seconda stop. E se è mezzo leone? Seconda stop, dai, andiamo a chiudere, che è così tardi. Ci sono pure i fuochi.